Oggi finalmente è venerdì 22 gennaio, data in cui verranno rilasciati i tanto attesi Toti. I Team of the Year, gli 11 giocatori più desiderati dell'anno, con stats clamorose, con prezzi esorbitanti, probabilmente non ne vedremo uno neanche col cannocchiale, mi ci metto in mezzo anche io, visto che per prenderne uno ho dovuto vendere quasi tutta la squadra e chissà se riuscirò, ma questa è un'altra storia, lo scopriremo insieme nelle prossime puntate, tra virgolette. Ci tenevo però a fare questo video per fare un attimino di chiarezza, visto che nella giornata di ieri sono uscite tante, tante notizie e tante speculazioni a riguardo di questo evento, sembra che sia praticamente ufficiale tutta quella che è la struttura, è stata lickata, quindi diciamo spoilerata, da un ragazzo tedesco, che addirittura è seguito anche dal profilo Yei tedesco di Yei Football, Fussball, eccetera, cose varie, magiche, quindi sembra essere molto molto affidabile, sembra che siano circolate in rete anche le effettive immagini della schermata, quindi ne andiamo a parlare per cercare appunto di chiarirci un attimino le idee, poi parliamo anche un attimo del mercato una volta e per tutte, anche se già l'avevamo fatto giusto un cenno. Quindi passiamo subito sulla schermata e vediamo che ci troviamo sul profilo Twitter di questo ragazzo, Moukai, questo leaker, si chiamano così in gergo tedesco, che appunto ha fatto trapelare queste informazioni. La prima informazione, quella probabilmente più succulenta, che ovviamente interessa a tutti quanti, sono proprio gli undicitoti, che dovrebbero essere questi qui. Ovvero a Porta, Neuer, in difesa, Alexander, Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davis, Kimmich, De Bruin, Bruno Fernandes a centro campo, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, i tre attaccanti. Diciamo che per quanto riguarda portiere e difesa, insomma, non ci sono grosse difese, l'unica perplessità era quella relativa ad un eventuale Alexander, Arnold, che poteva essere anche sostituito da un Theo Hernandez spostato a destra, ma invece hanno fatto uscire Alexander, Arnold, se le statistiche dovessero essere queste, e ovviamente, poi andiamo a guardare anche quelle che sono le statistiche in game quando le carte usciranno, insomma, Van Dijk e Sergio Ramos minacciano di essere qualcosa di veramente atroce, in particolare Sergio Ramos, io me lo immagino anche spostato in mediana, come i veri tempi di FIFA 18, a fare veramente il devasto. Quel Davis lì, alziamo le mani, potrebbe essere una delle carte più forti della storia di foot, veramente potrebbe distruggere il gioco, potrebbe giocare in qualsiasi ruolo, sarebbe un DC clamoroso, un mediano clamoroso, da terzino sarebbe quasi sprecato. Secondo me, Kimmich, che per carità poi lo andremo ad analizzare, ma insomma, credo che non ne vedremo tantissimi, De Bruyne, il solito De Bruyne clamoroso, Bruno Fernandes, che regà, una carta fuori di testa, fuori di testa. In attacco, secondo me, ci sono delle sorprese, perché sebbene Lewandowski, diciamo, in quanto, tra virgolette, vincitore morale del pallone d'oro, esce in automatico, e su questo non c'erano dubbi, su Cristiano Ronaldo, anche se era abbastanza sicuri, la sorpresa vera è Leo Messi, perché, insomma, si conferma la tendenza di EI, quindi di, alla fine, come vi dicevo, fregarsene, perché, voglio dire, Ronaldo e Messi, alla fine un posto nel Toti ce l'hanno sempre, a prescindere da quello che hanno reso durante l'anno, quindi fatevene una ragione, lo meritava Tizio Sempronio, no, Ronaldo e Messi fanno parte del Toti, al 99%, qualora dovesse essere confermato, Messi, che in particolar modo si inserirebbe prepotentemente nei vari discorsi relativi a, appunto, meta, competitività, eccetera, Lewandowski, onestamente, credo di no, Ronaldo, non ve lo sto manco a dire, insomma, però occhio a questo Messi. È chiaro che fa rumore l'assenza di Mbappé e di Neymar, ed è qui che interviene quella che è la seconda slide, perché qui, come vi dicevo, hanno alliccato tutto l'evento Toti. Seconda slide ci dice che ci sarà una seconda votazione che riguarda il dodicesimo giocatore Toti, che sarà stabilito tra Neymar, Mbappé, Allison, Robertson e Alan, quindi 99 su 100, uno tra Neymar e Mbappé, e 99 su 100, a mio modesto modo di vedere, Neymar, perché Neymar, vuoi o non vuoi, negli anni si è dimostrato che una carta Toti, il modo per farla uscire gliel'hanno trovata. Un peccato, perché secondo me questo Mbappé è una carta veramente letale, diciamo che ha sparigliato un po' la carta il fatto che Lewandowski abbia vinto la Champions col Bayern da protagonista, quindi qualora non fosse uscito Lewandowski, Mbappé era di diritto dentro, e Neymar sarebbe stato il dodicesimo, quindi diciamo che Lewandowski rovina un po' i piani, ma uno tra lui e Mbappé, ovvero Neymar e Mbappé, uscirà sicuramente. Io credo che Neymar possa tornare veramente molto utile visto il gioco adesso, attuale, ma anche Mbappé, insomma, direbbe tranquillamente la sua, quindi per quanto riguarda gli esclusi del PSG c'è ancora un'occasione e sicuramente uno dei due uscirà con questa votazione. Ulteriormente si è parlato tanto di quali fossero le SBC che potrebbero uscire durante questo periodo, bene, le due SBC Toti Flashback che dovrebbero uscire, così come l'anno scorso è uscito è uscito Marcello ed era uscito, se non erro, anche Neuer, quest'anno le due SBC designate dovrebbero essere Kanté Flashback, appunto Toti Flashback e Müller invece Toti Moments, quindi sempre per immortalare quella che è stata la sua cavalcata in Champions col Bayern, mentre per Kanté per ricordare quelle che insomma erano le versioni Toti degli altri anni. neanche in questo caso con Berkanté parliamo di una carta che sarà sicuramente eccezionale, sicuramente meta al 100%, perché questo qua praticamente sarebbe un Renato Sanchez ancora più forte in Premier League quindi ancora più linkabile anche con i piedi buoni. Non avrebbe il tiro che aveva gli altri anni se le statistiche dovrebbero essere queste, però voglio dire insomma sarebbe una carta estremamente efficace che potrebbe andare a trovare posto in tanti centrocampi. Müller invece sta qui più a fare la figurina che altro, voglio dire, perché insomma nessuno andrebbe mai a utilizzare questo Müller. A completare il tutto poi ci sarebbe per la prima volta un Toti disponibile tramite obiettivi settimanali, quindi una carta praticamente non scambiabile, gratuita, che riscattate completando determinate sfide che è quella di Tiago Alcantara. Un altro grande escluso secondo me che avrebbe potuto trovare sicuramente posto, che però non era proprio nelle votazioni, per cui insomma è evidente che avessero in qualche modo qualcosa in serbo, quindi in questo caso farlo uscire tramite obiettivo, perché secondo me meritava lui magari anche insieme a Kimmich al posto di uno tra De Bruyne e Bruno Fernandes, quindi ce lo ritroviamo probabilmente come obiettivo. Quindi questo dovrebbe essere il recap dell'evento Toti. Vi ripeto, il video esce oggi, stasera scopriremo, però per mettere un po' a tacere tutti i vari rumors volevo fare un po' di chiarezza. In più ci tengo a precisare un'altra cosa che la voce che dice che i Toti non si possono trovare nei pacchetti che abbiamo conservato è solamente una stronzata, perdonatemi il francesismo, perché ogni anno esce questa notizia e qualora dovesse mai effettivamente poi rivelarsi vera questa voce vi assicuro che se ne crolla il pianeta, la EA prenderebbe una tonnellata e una squintalata di insulti che se le ricorda per sempre, quindi diffidate da chi sta dicendo questa cosa perché secondo me è solamente un modo per farvi bruciare i pacchetti che avete tenuto con tanta tanta pazienza. Quindi per quanto riguarda Recappone-Vento Toti è questo, per quanto riguarda il mercato andiamo a dare uno sguardo molto rapido perché mi state chiedendo cosa bisogna fare e cosa bisogna non fare. Vedete che Ronaldo almeno ha 1.087.000 su Play e su Xbox ha 8,64 e vedete che diciamo non sono neanche i prezzi più bassi perché c'è stato circa una settimana fa il prezzo più basso su Xbox che è stato 8,41 e adesso è lievissima risalita così come su PS ha toccato anche 1.044.000 questo da cose dovute è dovuto dal fatto che c'è tanta confusione ok relativamente a questo evento stessa cosa ha fatto Bappé vedete che il prezzo più basso in realtà l'ha toccato qualche giorno fa con 8,38 e 6,53 per poi levemente rialzarsi se noi però andiamo a riprendere i grafici dell'anno scorso vedete nel periodo Toti si è andato a toccare il prezzo più basso in assoluto vedete qui 777 830 per poi riavere subito una risalita vedete 715 1800 già il giorno dopo l'uscita degli attaccanti Toti quindi occhio a questa cosa io direi che se siete arrivati fino ad ora aspettate stasera e non fatevi prendere dal panico un'altra cosa che ci tenevo a precisare relativamente all'evento Toti è che dovrebbero uscire stasera gli attaccanti per due giorni poi i centrocampisti per altri due giorni per tre giorni difensori e e portiere e poi venerdì prossimo quindi venerdì 29 dovrebbe uscire la squadra completa con il dodicesimo Toti quindi che verrà svelato venerdì 29 quindi anche per rispondere a quest'ulteriore domanda dovrebbero uscire con il solito schema a scaglione e non tutti quanti insieme nonostante non vengono rilasciati come tutti gli anni ma di venerdì quindi raga per questo video è tutto spero di avervi chiarito un po' le idee vi raccomando di lasciare un like e un commento al video come al solito di scrivervi che stiamo andando una bomba vi ricordo ulteriormente di seguire le info in descrizione per le live giornali sulla piattaforma viola è nuda ragazzi a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone ciao ciao